Ci troviamo qui sotto il ponte che collega Fano Pesaro lungo la statale, il ponte Calrabile in località Arzilla di Fano perché questa mattina, all'incirca un'oretta fa, intorno alle 9.40 è stato trovato un ordigno bellico inesploso per cui ancora si devono avere altre informazioni per quanto riguarda la pericolosità e per quanto riguarda la data a cui questo ordigno risale. Era lì sotto dalla seconda guerra mondiale ma nessuno se ne era mai accorto fino ad oggi. È stato rimosso e trasportato in una cava di bellocchi dove è stato fatto brillare in tutta sicurezza l'ordigno bellico rinvenuto questa mattina sotto uno dei piloni del ponte in località Arzilla di Fano da un operaio escavatorista che stava lavorando per sistemare alcune tubature nel cantiere per la vasca della prima pioggia. L'amministrazione comunale ha subito provveduto ad allertare la prefettura e i carabinieri e nel primo pomeriggio intorno alle 14 dopo un'attenta valutazione il genio ferroviere dell'esercito italiano di stanza Castelmaggiore ha deciso con l'ausilio degli operai di Aset che l'avevano trovato di rimuovere l'ordigno una bomba lunga circa due metri di fabbricazione italiana e risalente alla seconda guerra mondiale. Si tratta di uno dei tanti ordigni bellici ritrovati a Fano oltre a quello rinvenuto a Sassonia nel 2018. Fortunatamente rispetto alla volta precedente quando fu ritrovato un ordigno in Sassonia non è stato toccato quindi non ci sono pericoli di questo tipo per cui c'è una tranquillità basta metterla in sicurezza. Fortunatamente ha poi commentato il vice sindaco Cristian Fanesi questa volta il tutto si è risolto in tempi rapidi nel giro di poco tempo l'ordigno era stato rimosso. La procedura si è svolta in totale sicurezza e non è stato necessario evacuare persone o modificare la viabilità del traffico cittadino. Sul posto oltre ai carabinieri la polizia locale.